Secondo il libro Nero dell'Azzardo, il gioco online ha superato nel 2022 i 73 miliardi di euro e la Calabria si pone ai vertici della classifica ricavata dal report pubblicato da Feder Consumatori che ha fotografato in tutta Italia la crescita del gioco d'Azzardo. In termini di giocate pro capite, considerata una popolazione tra i 18 e i 75 anni, le province calabresi si collocano ai vertici della classifica del gioco d'Azzardo online, con Vibo Valencia al quarto posto per raccolta fra le 102 province, Reggio Calabria al sesto, Crotone all'undicesimo, Catanzaro al diciottesimo e Cosenza al ventunesimo. Fatte queste considerazioni tenendo conto che i giochi online e le scommesse sono legali se effettuate secondo le prescrizioni di legge, tutto quello invece che viene effettuato in modo abusivo e illegale deve essere bloccato, soprattutto per tutelare le fasce più debole e più esposte a rischio ed impedire ogni tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata. Per questo la Guardia di Finanza effettua contieni controlli in tutti quei luoghi nei quali potenzialmente si potrebbe commettere questo tipo di reato. In provincia di Vibo Valencia, nell'ambito di un'attività di servizio mirata al contrasto dell'illecita raccolta delle scommesse su eventi sportivi, le Fiamme Gialle hanno individuato una sala scommessa abusiva allestita all'interno di un circolo ricreativo, fatto comprovato dal ritrovamento di diverse ricevute stampate da alcuni clienti. Il gestore è stato denunciato a piede libero per aver organizzato un'attività di raccolta di scommesse in assenza di titolo autorizzativo. Inoltre, sono state sequestrate quattro postazioni di gioco dotate di computer e stampante termica, con le quali, tramite un collegamento via internet ad una piattaforma di bookmaker a estero, era possibile effettuare scommesse su eventi sportivi nazionali ed estero e stamparne a relativo palinsesto.